Ciao a tutti e benvenuti in questo video talk. Oggi sono tutta euforica perché è uscito un nuovo video di One Direction Drag Me Down ed è tipo... Ma sono da parte loro perché altrimenti io entrerai dentro discorsi non appropriati per questo video. Oggi farò un video talk che si chiama il Food Tag. Penso che oltre a me molti di voi sono appassionati al cibo. Quindi ho detto, bene, facciamo questo tag. Quindi iniziamo con le domande. Domanda 1. Colazione, pranzo o cena? Assolutamente la cena perché per pranzo non c'è nessuna casa oltre me e mio fratello. Quindi ci facciamo sempre le solite cose, quindi pasta o roba del genere. Invece la cena c'è a casa mia mamma e mio papà. Quindi posso aspettarmi qualsiasi cosa. A volte fanno la pizza, a volte fanno la torta salata, quindi assolutamente la cena. Domanda numero 2. Il tuo ristorante preferito? È una pizzeria che c'è qui nel mio paese e si chiama La Rotonda e fa delle pizze buonissime e le riempiono tantissimo. Domanda numero 3. Verdura o frutta? Odio la verdura. Anche se adesso inizio un po' a mangiarla, però riferisco assolutamente la frutta. Poi l'estate è fantastica. Mangerei anguria tutto il giorno. Domanda numero 4. La tua bella una gazzata preferita? Coca Cola. Neanche pepsi, perché la pepsi, non lo so, è più svampita. La Coca Cola è più, come dire, è più bollicina e abbiamo molto di più delle pepsi, quindi assolutamente la Coca Cola. Domanda numero 5. Pizza o pasta? Mmm, pizza. Se potessi vivrei sempre e solo di pizza. Domanda numero 6. Brownies o cookies? Forse cookies. Domanda numero 7. Pancakes o waffle? Pancakes. Mamma mia, no. Domanda numero 8. Zuppe o insalate? Insalate. Anche se non amo a verdura, però l'insalata mi piace particolarmente perché le insalate, le zuppe, non riesco a mangiarle. Domanda numero 9. Il tuo gelato preferito? Al cioccolato. Sempre sul cioccolato. Poi ogni tanto prendo all'allineo, un yogurt oppure al melone, ma preferibilmente il cioccolato, il fondente. Appunto, domanda numero 10. Cioccolato bianco, al latte o fondente? Io vivo per il cioccolato fondente. Domanda numero 11. Frullate o frappè? Frappè. Domanda numero 12. Cioccolato intatto, caffè o tè? Diciamo che ogni mattina viene il caffè, però l'inverno vi faccio tante cioccolate calde, perché ci sta la grande, quindi freddo. Sto sotto la copertina che guardi un film, magari con il fuoco al cielo. Cioccolata calda. Bene, le domande sono finite. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like. Se avete qualche consiglio, come al solito, o qualcosa da dirmi, potete commentare che l'avete qui sotto. Prima di interrompere questo video, volevo taggare la mia migliore amica, Eleonora Mellons, che questo è il tag perfetto per te. Poi volevo taggare Gloria Siliero e Giulia Giannis. Da qui ci vediamo al prossimo video, che vi vedo molto a Cristo. Ciao. Top.